Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrè Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao! Ciao a tutti, sono Antone Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto a radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anche io ascolto sempre, ma sempre, Radio Inizia il Campionato. Gentili, benvenuti ascoltatori del Giro d'Italia. Tappa numero 4, tappa interessante che va da Orbetello a Frascati. Una tappa davvero bella. E allora non è così bello aprire proprio con le parole di Arnode Mara alla partenza. Abbiamo visto farlo spinito al meglio con la sedge di oggi. L'obiettivo è divertirmi, assolutamente. Devo prendere per forza un magic almino. È sicuramente obiettivo. Abbiamo fatto un lavoro ieri molto bello come squadra. Oggi, allora, vediamo cosa risponde. Tappa durissima. È leggermente in salita. Non potrò dire come andrà, si verrà tutto. Allora, a detti questi percorsi, è un obiettivo prendersi la maglia ciclamino e ci proverò. Vediamo. Si vedrà poi se si aprirà o tra prendere la maglia ciclamino o no. Ma è soddisfatto per la vicinanza di questa vittoria. Vittoria e ha detto che siamo sulla strada giusta e quindi molto bene. Molto, molto bene. Quindi, ci sono pochi problemi, in verità. Ha detto che la maglia ciclamino e Arnaudemar ha il suo interesse. Allora, intanto si vede sempre qualcosina di più. Allora, adesso iniziamo. Abbiamo attenti a Arnaudemar. Allora, da Arnaudemar passiamo ad analizzare l'orbetello Frascati. 225 km di 2 stelle. L'abbiamo già analizzata ieri nella fine tappone. Oggi vi riproponiamo qual è stato, almeno meno, e quale tutto è percorso. Anche c'è, davanti, un po' più davanti ci sono praticamente il corridore pettorale 25, il nostro italiano Marco Frapporti, pettorale 54, Mirko Maestri. Allora, Frapporti con l'Androni Giocattoli, Maestri con la Bariani CSF e il corridore pettorale 149 da Miano Caruso con la Nippo Vini Fantini Fight Zone. Nippo Vini Fantini. Ecco, questi sono quelli davanti. E davanti saranno ancora una tappa davvero interessante. Allora, la tappa di oggi. Frascati, orbetello praticamente. C'è un, nel percorso, un solo GPM, che è quello di Manciano, due traguardi volanti a Vetralla e traguardi volanti a Mintana. Il traguardo volante, post 32 km, 800 metri dalla partenza, è un GPM di quarta categoria praticamente. Poi si passerà dalla Toscana alla Lazio, praticamente. C'è un continuo saliscendi, mi affia curva. Praticamente si arriva a Roma, nel cuore di Roma, nell'Interland di Roma, dove praticamente, per arrivare a giungere a Frascati, una tappa che è sopra, un tappa sopra 100 km, 135 km di difficoltà, due selle di difficoltà, ha detto. Gli ultimi due chilometri e cinque, praticamente, la strada sale ha un pendenza dal 4 al 7 per cento, praticamente. Eremmo chi si deve trammuovere. Praticamente, gli ultimi cinque chilometri sono sempre da prima, sono in discesa con alcuni svolgi rotatori. Segui un tratto ondulato che porta gli ultimi 2,5 chilometri, me, sempre a salire. E praticamente, con una pendenza, torna al 4 al 5 per cento, con picchi fino al 7 per cento. L'ultimo chilometro, interamente in salita, con pendenza fino al 4 per cento. Lettio finale, in asfalto, 250 metri largo, 6,5 metri. E come di consuetudine, oggi, c'è una consuetudine interessante, praticamente. Il giro d'Italia, praticamente, è un giro d'Italia interessante. Ieri, hanno risultato tanto al nome del nostro Elia Viviani, ma non voglio... Elia Viviani ha toccato... ha toccato il... con un altro corridore italiano, praticamente. E allora, non era riuscito a... era arrivato proprio a questo corridore qui. Al... corridore... a questo corridore qui. Ve lo ricordo, un corridore in... era... l'ha toccato con... il corridore in... dei corridori importanti... era... Moschetti, e lo ha detto proprio come sta in regala, nella va... nel pulmino del... nel pulmino... del... del... del VAR, praticamente, lo hanno detto. E allora, intanto, inquadrato a... quando sono 96 km... 440 km... praticamente. Abbiamo inquadrato Mirko... Maestri, inquadrato sempre lui Mirko, Mirko, Maestri. È una... giornata... interessante. Allora... andiamo... si vedrà... sempre di più nel... frattempo... una gara importante. È... una... tappa ben importante. Ah, c'è anche... eh... il... C4 giorni di... di un... di un crack... eh... lui. Vediamo, stiamo... eseguendo tanto... il giro d'Italia. Allora... eh... vi andiamo a... a... ricordare... chi ha vinto il GP... Allora... davanti. E allora, si può vedere una fuga davanti? Lo scopriremo. Allora... andiamo a... vedere... praticamente... la... la... parratenza... come è stata la... la par... la par... partenza... praticamente... una... partenza molto... interessante... praticamente... è una... gara che... arriva ad... or... betello... o... praticamente... arriva da parte or betello a frascati... frascati è una grande... grande in... posizione... quello... che può anche succedere. Per il frattempo si vedrà un'altra tipologia di corsa, vediamo. nel frattempo... nel frattempo partiamo dalle 11 e 32 dove c'è stata la partenza da Orbetello dove ieri purtroppo non ha vinto il nostro Elia Viviani non ha vinto. e allora non ha... poi nel corso della diretta parleremo proprio di cosa è successo ieri e ne parliamo a breve, quindi rimanete con noi. prima facciamo l'epilogo fin ad ora, fino adesso, quello che sta succedendo, quello che potrà succedere, ma prima vi ricordo chi ci vuole scrivere hashtag girocentonews, solo così vi individueremo, girocentonews, potete metterci anche altri hashtag vicino, ma quello che è fondamentale è l'hashtag girocentonews. noi non leggiamo noi, girocentonews, se individuiamo la domanda nostra, ma che non è col girocentonews, la comunque noi la leggeremo lo stesso, però deve essere la categoria, mettiamo priorità a quelle del... con scritto girocentonews tramite twitter e anche tramite facebook, anche tramite facebook, scriveteci nei commenti, anche con i commenti anche al di sotto delle dirette, nei vari gruppi di ciclismo, dove potete fare qualsiasi domanda. chi può essere lì a vincere oggi? Dopo l'Elia Viviani, che ieri ha sbancato, ma poi è stata tolta la classifica, vedremo che un Elia va. intanto a un frapporti va in velocità, intanto c'è le strade, sono bloccato chi doveva uscire proprio per vedere, per andare, intanto vengono inquadrati sempre animali, cavalli, mucche, vengono inquadrati. e allora, chi è che vuole parlare di questo giro? Allora, per parlare del giro, molti sono tifosi del giro, perché gli piace, ognuno ha il suo tifoso. una cosa, prima dell'epilogo, è dirvi che il giro piace a tutti quanti, piace perché passa per l'Italia, a volte perché ci sono i propri corridori, alcuno dice, eh quest'anno per forza c'è un italiano, non si fanno nomi, a volte non si fanno nomi, non si fanno proprio dei nomi, praticamente, e allora, lo vediamo in questo momento, partiti alle 11 e 32, praticamente 11 e 3, allora il gruppo, diciamo 11 e 25 è partito il gruppo, alle 11 e 34, era già arrivato fuori a chilometro zero dove è stata sbandierata proprio la bandiera del primi chilometri, intanto avanti, avanziamo. Alle 11 e 51 i tre fondi in fuga sono Marco Frapporti, con Marco Frapporti, con il nostro Marco Frapporti, con l'Androni Giocattoli, Sidi e Marco Maestri, con la Bardiani CSF, e anche il nostro Damiano Caruso, con Annipi, Fantini, proprio lui, e poi anche ancora una volta, se il 11 e 55 è il nono chilometro, il vantaggio di 5 minuti e 52, praticamente. Andiamo ancora avanti, 12 e 06, cresce il distacco in fuga al 39, 8 minuti e 7. Ancora in avanti, poi ci arrivi, aggiungiamo al GPM di Quarta Cauda di Monciano, che vede 3 punti al primo, 2 punti al secondo e al terzo un punto. Frapporti prende 3 punti, Maestri 2, Cima un punto. Poi, praticamente, andiamo ancora avanti, Thomas De Gein si mette a, guardiamo le gesta di alcuni corrido, le gesta di alcuni corrido d'intanto, c'è un, prima siamo nel riepilogo, giusto per farvi capire, c'è un corridore a terra, ai ai ai, Marco Frapporti, Marco Frapporti che era davanti, Marco Frapporti, peccato per Marco Frapporti, Marco Frapporti, il numero 25, Dandroni Giocattoli, si demarche, ha perso il contatto con quelli, con coloro davanti, Marco Frapporti, eccole lì, più avanti, però deve recuperare Marco Frapporti, deve spingere per ritornare nelle calcane di Mirko Maestri, Damiano Cima della Mirko Maestri a Baccia SF e Damiano Cima della Nippo Vini Fantini, è un grande, intanto, poi andiamo a analizzare. Poi, alle ore, vediamo le foto della fuga, poi, praticamente, vedremo, traguardo volante di Vetralla a Maestri 12 punti, Cima 8 e Frapporti, praticamente, 6 punti, vediamo, vediamo, praticamente, che cosa succede, vediamo, allora, era un, un, traguardo volante, era, vediamo qual è il traguardo volante, che riusciamo a capire per il momento, no, non siamo riusciti a capire un po' quello che può succedere, nel frattempo vedremo una tappa davvero interessante, e, allora, allora, vediamo, che cosa è successo, e, allora, vediamo, poi, che cosa succede, veramente, tutto quanto, vediamo, una, una grande, grandissima voglia di fare, praticamente, e, allora, e, allora, praticamente, allora, vediamo, poi, che cosa succede, perché è una, una grande tappa, ricordiamo, noi stiamo vedendo, intanto, aggiornamento della, eh, classifica, praticamente, del traguardo, eh, volante, eh, praticamente, del, eh, traguardo volante, eccolo qui, il, eh, del traguardo volante, vi anticipiamo, un pochino, tutto, quello che, eh, succede, perché, allora, i traguardi, eh, volanti, stiamo, a, rivedendo, un po' i punti, traguardi volanti, mi sembra, allora, dice, 12 punti del traguardo volante, a cime, a frapporti, perché, forse, è, ai primi, e dai otto classificati, forse, i primi otto classificati, A e B, però, al primo punto è 20, vedremo, ehm, vedremo, poi, eh, cosa, eh, succederà, nel frattempo, andremo ad analizzare, più avanti, quello, che, eh, successo, o, alla fine, e, allora, vediamo, vediamo, allora, e, allora, e, allora, e, allora, ehm, vedremo, vedremo, cosa, eh, succederà, intanto, siamo a vantaggio, poi, andando avanti, come classifica, Magici, Calamino, Gaviria, a primo, 58 punti da me, eh, 54, Ackerman, 50, Maestri, 18, Frapporti, 18, Moschetti, 18, Cima, 16, Roglic, 15, Ciclamini, 15, e Nizzolo, 14, adesso, eh, che siamo, avanti, in, eh, diretta, allora, 86 chilometri e 500 metri, 8 minuti e 40, che si sono presi, i, eh, loro, due, eh, praticamente, loro, loro due, vediamo, poi, che cosa, eh, succederà, gentili, raissimi, radioascoltatori, eh, si va, eh, sempre, avanti, per capire, che cosa, eh, potrebbe, eh, succedere, praticamente, e allora, eccolo qui, eh, vediamo, nel frattempo, perché, perché, sta, eh, succedendo sempre, di più sta succedendo, eh, è una grande, importanza, eh, ieri, eh, abbiamo visto l'errore di Elia Viviani, eh, abbiamo esultato, come non mai, abbiamo, eh, abbiamo esultato, eh, come non mai, ieri, però, oggi, purtroppo, siamo arrivati, a non esultare, eh, di, non esultare, Movistar Team, con, Miguel Landa, poi, Arnaud De Mar, Richard Carapaz, Hector Carretto, Luis Mas, Antonio Pedro, e John, Joaquin, eh, Rojas, Suttelini Jazz, allora, è una, una tappa, molto bella, è una, mh, una tappa, molto bella, eh, vedere, e allora, eccola qui, intanto, Autodromo di Valle Lunga, ti viene, eh, fatto vedere, dal nostro, monitor, di servizio, Autodromo di Valle Lunga, ha una storia incontratibile, eh, allora, vediamo poi, eh, che cosa, allora, eh, quello, che, si andrà a vedere, in, in questo istante, eh, vediamo, una, una vera, eh, propria, tappa, di, interesse, unico, perché è un interesse unico, perché lo voglio, ribadire, e lo voglio, anche, eh, dire, vi riportiamo le parole di Kale B1, di questa mani, Tina, Kale B1, velocissimi, vi riportiamo a breve, Kale B1, e allora, vediamo Kale B1, vedremo, Kale B1, adesso, vi riporteremo tutto, tutto quello che ha detto, Kale B1, questa mattina, perché, noi siamo, su un grande fronte, quello, di, eh, farvi, eh, sentire anche le interviste, cioè, ha detto Kale, eh, B1, allora, vediamo, Kale B1, Kale B1 ha detto che era fiducioso, che fiducioso, nel, finale di oggi, ha detto che era molto fiducioso, Kale B1, ha detto, questo, Kale B1 in grande, bravo, Kale B1, Kale B1, ha detto che è una tappa di oggi, molto interessante, una tappa che può andare, per il verso giusto, eh, eh, può andare, eh, può andare molto bene, vediamo intanto, Theo, George, Hart, c'è il corredore del cento, petrale del cento, c'è il cento, c'è il team Ineos, allora, primo maggio, Team Ineos, a parte, dell'UCI, del, lo vediamo intanto, vediamo forse, come, vediamo intanto che sta succedendo, che, eh, hanno messo uno, uno spray sulla bici, del numero 25, della, eh, Androni Giocattoli, Marco Fraporti, lo abbiamo visto, eccole qui, le nostre, le camere, eccole qui, le, eh, doppia, eh, telecamera dietro, e la telecamera, mh, davanti, abbiamo anche visto, nel, eh, frattempo, si vedrà, sempre, un, qualcosina, mh, di più, per, quanto, riguarda, è un Giro d'Italia, che è molto, è molto, è un Giro d'Italia molto interessante, vogliamo ribadirlo, lo ribadiamo, anche perché, c'è, lo ribadiamo, anche perché, vi leggiamo, adesso, andiamo a riportarci, quello che vediamo nel nostro monitor, eh, di, eh, servizio, eh, che arriva, proprio, in una cittadina, molto, ma molto, in, eh, interessante, che era Campania, allora, eh, 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 è una, cittadina molto, in, in, interessante, quella che, stanno, oh, collegio, vediamo, il collegio di San Giovanni, eh, Battista, Nel frattempo, eh, potete, anche, eh, potete, anche, commentare, proprio, eh, con, eh, eh, praticamente, Allora, Allora, eh, e allora, vedete, tanto, importante, c'è anche il frapporto, nel frattempo, è ritornato, il nostro, corredore numero 25, eh, Marco Fraporti, ma, no, Marco Fraporti, è ritornato, il nostro grande, eh, Marco Fraporti, praticamente, allora, bisogna, bisogna, capirli, eccoli, con il, eh, il ciclismo, è, interessante, vedremo, poi, eh, come, potranno, andare, eh, le, eh, cose, tutte queste cose, e allora, adesso, che noi siamo, in diretta, vediamo, come vanno, eh, che vanno, me vanno, tutte le, eh, cose, per il, eh, momento, è un giro, che va, in, va, alla grande, quest'oggi, lo andremo, sempre di più, a vedere, e a, a capire, eh, proprio, il, il, il ciclismo, il ciclismo, è sempre ciclismo, eh, potete, allora, noi, anche tramite, Facebook, Instagram, eh, allora, su Twitter, a ma, soprattutto, anche su Facebook, gli amici, che seguono, il giro, li potete, anche, scrivere, commenti, in diretta, noi, li leggeremo, eh, 81, chilometri, 700, metri, 7 minuti e 20, 24, sono, sono, davanti, eh, praticamente, ecco, li qui, tutti i corridori, eh, i corridori, che vanno a massima espressione, eh, Viviani, in testa, al, è stato in testa, al gruppo, Elia Viviani, con la Quick Step Flourts, vediamo, eh, come vanno, proprio, le cose, perché le cose, devono andare, per un verso, molto, ma molto, ve lo voglio ricordare, mo, mo, molto, per il, eh, verso giusto, nel, eh, frattempo, si sta, vedendo, una, grande vittoria, si potrà vedere, una grande vittoria, noi, nel, frattempo, andiamo, anche, a, a, capire, eh, come, eh, possono andare, i, eh, corridori, i corridori, perché, vi riportiamo, qualcosa, dei, eh, corridori, eh, abbiamo, ecco, qui, dei corridori, i corridori, possiamo dire, uno, che all'inizio, era il favorito, ah, vediamo, allora, di, di Simon Yates, perché, praticamente, eh, ah, parliamo, di, Simon Yates, Simon Yates, praticamente, eh, lo, 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 scorso anno, per, due terzi, praticamente, alla, alla, a, ha vinto, la vuelta, ha dimostrato, che lui, aveva, sapeva anche, fare, mo, mo, sapeva fare, molti di quei, eh, sforzi, pra, praticamente, e, eh, e, allora, si, eh, potrà capire, eh, lui, che ha fatto molti sforzi, alla vuelta, dello scorso, eh, anno, eh, la vuelta, dello scorso anno, praticamente, ha, ancora, eh, un paio di chili, allora, se il suo peso naturale, ha detto, Tom Nguyen, che era sopra, all'inizio del giro, ben, un paio di chili, quello che vorrei, che voleva, devono mettersi sempre, al, al, meglio, eh, lui, lo, lo, ha detto, praticamente, eh, diciamo, tutti quanti, potranno fare, il, su, un conto con lui, con, eh, Simon Yates, però, ricordiamo, adesso, che oggi, Mirko Frapp, allora, Marco, eh, Frapporti, Mirko Maestri, e, eh, Damiano Cima, davanti, tre, davanti, in, questo, oh, momento, sono, eh, tre, sono, davanti, mh, pra, pra, eh, praticamente, sono, proprio, mh, davanti, praticamente, e, allora, eh, la maglia, rosa, la, stiamo, vedendo, la maglia rosa, nel frattempo, giusto, giusto, per, per, parlare, vediamo, ah, Matteo, Montagun, Matteo Montagun, sempre dell'Androni Giocattoli, col petto alle 27, non ha il, la sella, quindi dovrà cambiare, eh, bicicletta, se, fa, fa, parlerà con quelli di Androni, guarda dietro, se ci sono, quelli degli Androni Giocattoli, per dire, ma io sto, senza sella, e allora, senza sella, allora bisogna, vedere, capire, poi, eh, che cosa, succederà in, in questo momento, questo è un giro, davvero in, un giro, davvero in, interessante, perché è un giro davvero interessante, perché vanno, sempre per il, eh, per il, verso giusto, tutte, le manovrine, le manovrine del, eh, giro d'Italia, è un giro d'Italia, davvero interessante, perché questo, ripeto, lo ribadisco, perché, va, se, si va sempre davanti, sono, 79 km all'attraguardo, 6.054, dalla Maglia Rosa, e, eh, è da capire, eh, tutto, eh, questo, tutto quanto, quello che, eh, succede, eh, che, succede alla, mh, grande, eh, praticamente, vedremo, poi, eh, che cosa, eh, succederà, praticamente, è una, fuga davvero, in, eh, allora, vediamo, oggi dovrebbe, eh, passare proprio in, grande, par, vi leggiamo del parco regionale di, eh, Vae, Veiello, sviluppato nell'agro, ventano, ed è caratterizzato in, mh, è caratterizzato in, interamente, eh, eh, con interessanti elementi, eh, storico, allora, con, in, interessanti, elementi, allora, quindi, ve lo rileggiamo, parco regionale, Veio, si sviluppa nell'agro, ventano, ed è caratterizzato in, interessanti elementi, storici, naturali, naturalistici, e paesaggistici, queste sono le, eh, nuove, cose, del, giro, o, d'Italia, è una tappa, davvero, in, eh, in, interessante, praticamente, vediamo, è una cosa in, por, in, por, tantissima, allora, è un, qualcosa di veramente, in, interessante, di, in, interessante, allora, eh, si andrà a vedere, que, tante, novità, tante cose, in, importanti, praticamente, allora, andiamo, e allora, vediamo, sempre, di più, quello che, eh, succederà, perché è una, qualcosa di, interessante, adesso, che noi siamo, sempre, avanti, vediamo, vediamo, i, eh, i, corridori, che sono, mh, lì, eh, da, ma, i corridori, che sono sempre lì, vediamo, che cosa, potrebbe, anche, succedere, per il, momento, allora, è una, tappa, stratosferica, questa, quella di oggi, perché, bisogna capire, che, non può, più, sbagliare, eh, ve lo ricordo, non può, più sbagliare, nessuno, adesso, perché, già, con la, retrocessione, proprio, di, eh, con, la, retrocessione, del, grande, del nostro, Vincenzino, Nibali, praticamente, ci, è dispiaciuto, un, mondo, proprio, per, eh, Vincenzo, per, per, per il nostro, Elia, Viviani, il grande, Elia, Viviani, cosa, può, succedere, in, realtà, lo, lo, scopriremo, proprio, in, interesse, allora, è una, una grande, grandissima, eh, portata in mano, tra esserci, adesso, eh, siamo, sempre, ancora, da, ma, da, ma, per questo, giro, che, eh, regala, tante emozioni, noi, eh, vedremo, lo vedremo, adesso, siamo, nel, siamo, praticamente, in, e allora, vediamo, una, e al, allora, vediamo, poi, che cosa, succede, intanto, è da, capire, eh, come, eh, andranno, eh, giornate, davvero, in, interessanti, praticamente, è un, 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 giro, d'Italia, molto, molto, bello, quello, di, di, eh, quest'oggi, è un, giro, che, va, alla, alla, vediamo, poi, che, cosa, eh, succederà, praticamente, in, in, fino alla fine, è una, una grande, eh, sono tante, le, eh, velocità, di questo giro, il, il giro, che, vede, la, maglia, la, maglia, la, maglia, praticamente, eh, rosa, sempre, nelle mani, di Primoz Roglic, praticamente, Primoz Roglic, è uno, dei, eh, più o meno, favoriti, vediamo, Tom, di, 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 che cosa potrà anche, eh, fare, praticamente, vedremo, una, una grande, grandissima novità, per, quanto riguarda questo, eh, giro, nel, frattempo, eh, vediamo, quella, vediamo quello che succederà, intanto, eh, si potrà anche, fare il, si può fare di più, nel, eh, nel, frattempo, praticamente, eh, quello, eh, che potrebbe, eh, succedere, nel, frattempo, il, 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 giro, d'Italia, che è il giro, molto, in, interessante, si vedrà di più, nel, frattempo, vi vogliamo, oh, ricordare, eh, tanto, è un, un, un giro, che va seguito, eh, va seguito, perché, può andare, per il verso giusto, eh, il, il, giro, d'Italia, praticamente, eh, poi, alle, ha avuto, poc'anzi, un, un problema, Matteo, eh, Montaguti, eh, Matteo Montaguti, dell'Androni Giocattoli, aveva perso il, 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 Sellino, aveva perso, e quindi, eh, non ha, ha voluto, dare nulla, nulla, per, nulla, di scon, nulla di scontato, eh, praticamente, allora abbiamo anche, dal, le, dalla moto, allora vediamo, dalla moto in, dalla moto in grande, vedremo, come andranno, eh, i fatti, vediamo, dal, dalle, dal, dall'elicottero, l'elicottero, che, dà tanto, nel frattempo, bisogna anche, capire, se, questi, i tre uomini in fuga, e questi, tre, italiani, eh, che, ci, forno, che ci sono in, in fuga, questi, eh, tre, italiani, possano, dare, sempre più, nella, una, possano dare, all'Italia, sempre, qualcosina, in grande, all'Italia. Noi, dobbiamo, ancora, dovete fare, i conti, una, dovete fare tutti i conti, con un grande, giro, d'Italia, che è un giro, in, in, un po', tante, questo, questo, giro, d'Italia, è uno, dei, giri, più in, uno dei giri, eh, più in, interessanti, che, che ci siano, perché è uno dei giri più interessanti, che ci siano, perché, è una, eh, una tappa, davvero, entusiasmante, lo stiamo, vedendo, allora, vediamo, eh, vediamo quello che, eh, può, accadere, in, può accadere, praticamente, in, tanto, ecco, vediamo, dalla, eh, moto, nu, dalla moto, quelli che sono, i, eh, corridoi, intanto, eh, potrebbero, anche essere i favoriti, vediamo, la moto, uno, con la, eh, telecamera, molto, molto, vicino, siamo, 71, chilometri, 7, eh, 100, metri, 7, 700, metri, andiamo, andiamo, eh, dall, l'elicottero, come, mh, si potrà, praticamente, e, eh, si potrà, praticamente, espandere, proprio, questo, giro, nel, nel, frattempo, vediamo, dall'elicottero, come, vanno, eh, eh, corridori, eh, praticamente, li andremo, a, a, vedere, siamo, nella, nella camera, in una delle camere più, in, ma, importanti, eh, che ci sono, di, questo, eh, giro, d'Italia, che è un, che è un, giro importante, vediamo, adesso, eh, che cosa, succede, per, questa, eh, tappa, me, con, con, questa tappa, eh, meravigliosa, praticamente, è una, una tappa, più, in, tappa, molto, molto, importante, vediamo, le due dire, la diretta, dall'elicottero, praticamente, e, la, mh, diretta, dalla, moto, moto, o, uno, moto, il più, in, moto, più, importante, è una moto, davvero, straordinaria, nel, frattempo, nel, frattempo, vediamo, poi, che cosa succederà, mh, allora, vogliamo, mh, che, leggere, i, commenti, che, ci, arri, vogliamo, anche, leggere, i, commenti, che, ci, mh, arrivano, arrivano, praticamente, vediamo, niente, eh, di che, dalla, moto, numero, uno, praticamente, eh, vediamo, i colori, che, vanno, avanti, li, eh, li, andiamo a vedere, nel, 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 frattempo, possiamo, anche, capire, chi, dei, eh, due, anche, i, dei corridori, eh, più, in, in, importanti, possono fare, possono fare, cosa di più, mh, allora, eh, vedremo, vedremo, anche, allora, eh, c'è, di tutto, di più, quello che, eh, può, accadere, che può accadere, un, un po', sono, eh, po', gare, davvero, interessante, vediamo, nel, nel, frattempo, praticamente, eh, davanti, davanti, vanno, come, eh, eh, lupi, praticamente, vanno, come, come, dei lupi, questi, eh, corrido, corrido, fattori, praticamente, allora, nel, frattempo, eh, possiamo, anche, vedere, eh, possiamo, vedere di tutto, adesso, il, il nostro, eh, problema, problema, e allora, ecco, eh, potete, eh, scriverci, nei, eh, commenti, noi, lì, tutti i commenti, che, eh, ci, eh, arrivano, o, lì, eh, li, li leggeremo, questi, commenti, però, una cosa importante, eh, allora, si parte, sempre, eh, di più per questo giro, vediamo dall'alto, i corridori in grande, dall'alto, vediamo, la moto, eh, uno, la moto uno, che segue, i fuggitivi davanti, i fuggitivi che sono, i fuggitivi che, sono, proprio, davanti, lì, vedremo, e vedremo, tutto, eh, di più di questo, grande, della corsa, mh, rosa, la corsa rosa, è una corsa, interessante, questa, questa corsa, eh, rosa, praticamente, vediamo, è la, orbetello, frascati, quella, di oggi, una, una, cosa, una tappa, davvero, interessante, per il momento, praticamente, bisogna, capire, che cosa, potrà, succedere, perché, un, un momento, sono momenti, davvero, interessanti, nel, frattempo, vediamo, dall'alto, dall'elicottero, cosa, eh, succede, come va, la, la tappa, che repertorio fa, siamo ancora, eccoli, presi, ecco, pochi, eh, chilometri, eh, fa, i, eh, corridori, eh, sono stati presi, nel, frattempo, li, riusciremo, a vedere, intanto, sentiamo, Pascal Ackman, stamattina, allora, Pascal Ackman, che, eh, questa, mattina, vuole andare, in grande, Pascal Ackman, sono, vediamo, dalla, moto, davanti, vediamo, adesso, vediamo, cosa, succederà, questo, davanti, in questo, giro, d'Italia, nel, nel, frattempo, vediamo, una, tappa, che va, alla grande, ha detto, Ackman, ha detto, va tutto bene, però, se non ci proviamo, non ci proviamo, a vincere, proprio, la, la, la tappa, dovremmo, capire, poi, come, potrebbe, andare, praticamente, intanto, nel, frattempo, vediamo, chi potrebbe, anche, andare, da, ma, se potrebbe andare, davanti, adesso, è una, è una, potrebbe, vediamo, nel, frattempo, vi, eh, riportiamo, tutto quello che, eh, accade, nel, eh, frattempo, nella, eh, mega, eh, nella, mega, eh, diretta, eccola qua, la, allora, foratura per Giacomo Nizzolo, per, praticamente, e allora, eh, è una foratura molto, molto, eh, è molto, non è una grande foratura, e quindi, eh, domenica lo fece a fucecchio, nella, tappa, di, di fucecchio, praticamente, vedremo, come, andrà, tutto, tutto quanto, vi ricordo, che la, betello, frascati, con, arrivo a frascati, mancano, 64 chilometri, 800 metri, è una tappa, di, un grande, un grande, livello, eh, di un grande, di un grande, livello, si vedrà, sempre, qualcosina, di più, per quanto ci riguarda, e noi andiamo, a dirvi, un altro, corridore, di, eh, di Primoz Roglic, eccolo qui, Primoz Roglic, eh, praticamente, vediamo, la maglia, davanti, di Primoz, eh, vediamo la maglia rosa, di Primoz Roglic, poi, eh, vi dicevo, arriva, praticamente, da una grande, una grande favorita, è una, prima, era molto importante, ha, praticamente, ha tre corse, ma, mh, le avete tutte e tre, eh, eh, Wetur, Tirena Adriatico, Romandia, quindi, dove ha partecipato alle tre, eh, Wemini, Tirena Adriatico, Romandia, a, le ha, eh, le ha, praticamente, eh, vinte, eh, i corridori davanti fanno un grande passo, fanno un grandissimo passo, intanto, viene il quadro, il monitor svizio, Cesare Benedetti, il grande Cesare Benedetti, poi, dicevamo sempre di Primoz Roglic, ha, quattro, quattro cessi di tappa, ha avuto, è il suo quarto, grande giro nella carriera, nella carriera, mh, e poi al quarto posto, lo scorso anno, ci andò al Tour de France, quindi Tour de France, poi, ancora, una volta, vediamo cosa potrebbe fare, parliamo, adesso, eh, sempre, mh, mh, sempre, eh, sempre, di lui, di lui, vediamo, le, allora, sono, allora, sono, praticamente, eh, molte le possibilità, due, sono due, due, eh, cani guerriti, sono Tom Dumoulin, del Team Sao, e Primoz Roglic, allora, l'olandese, che, Tom Dumoulin ha vinto la Corsa nel 2007, con inaspettatezze, perché ha fatto una grande, un decors, ha fatto, poi, lui, praticamente, Roglic è uno, uno dei più grandi protagonisti di questi primi mesi, a partire, ha vinto, lui, minor tour, la Tena Riali, che, poco prima del, giro di, eh, del, eh, giro di Italia, ha, ha vinto, proprio, la, mh, ha vinto il giro di Romandia, in Svizzera, però, bravo, perché, eh, Primoz Roglic, arriva da combattente, arriva da guerriero, e quindi, quando arriva, arriva sempre da guerriero, si, arrivi sempre, eh, da, eh, guerriero. Adesso, eh, una, staccata, deciso, intanto, il gruppo, li stiamo seguendo, minuto dopo minuto, dalla telecamera della moto, e, eh, allora, 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 vedremo, come vuole andare, poi, eh, grandi, mh, diciamo, classica generale, 50, diciamo, eh, allora, è un'inglesia generale, molto indietro, vedremo poi cosa succede, eh, vedremo, mh, poi, che cosa, potrebbe accadere, a fine, eh, tour, a fine, a fine giro, o, a fine giro, un, un giro, emozionante, quello, il, del giro, del, giro, d'Italia, praticamente, è un giro, in, entusiasmante, eh, quello, praticamente, vediamo, che cosa, potrà, a, si potrà, a, capire, nel, frattempo, bisogna, capire, che cosa, eh, succederà, nel, frattempo, che, chi, eh, potrà, andare, nel, potrà fare, questo grande giro, un giro, davvero, bello, o, cosa, si, riuscirà, cosa, si riuscirà, a fare, nel, frattempo, si potrà, anche, iniziare, a, eh, studiare, tutto, quanto, veramente, si potrà, tutto, intanto, vedremo, poi, che cosa, poi, riusciranno, a, fare, nel, frattempo, vediamo, intanto, la, sempre, balla, molto, la telecamera, della moto, uno, sono, entrati, in, auto, una piccola parte, di strada, vediamo, vediamo, dove sono, poi, parliamo, anche, lo teniamo, e allora, eccoli qui, vedremo, vedremo, che cosa, potrebbe, anche, succedere, frattempo, un, 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 giro, d'Italia, davvero, entusiasmante, oggi, vedremo, poi, quali saranno, le, possibilità, di andata, stiamo, seguendo, dall'alto, le telecamere, dall'alto, tutto, il giro, il giro, vediamo, mancano, praticamente, chilometri, 58, chilometri, 600 metri, all'arrivo, allora, adesso, stanno, superando, le auto, oggi, si arriva, a Frascati, vicino Roma, il grande, sono tante, le strade, bloccate, per oggi, però, è una, di quelle tappe, che vanno, vanno alla grande, adesso, parliamo ancora, di Primoz Roglic, ci diamo un'altra importanza, a Roglic, 8 minuti e 1, 8 minuti e 1, praticamente, 8 minuti e 1, vediamoli, intanto, eccoli, si aprono, a, ventaglio, i due, intanto, parliamo, di Primoz Roglic, praticamente, perché, eh, allora, Roglic, è uno di quei, corridori, bravi, e corridori, che non, se la prendono, mollatissimo, e allora, intanto, è una cosa che noto dalla telecamera in moto e dalla telecamera davanti, è una cosa che sono da, ma com'è che in telecamera in moto 1 arriva sempre con il ritardo, dalle immagini abbiamo noi che stiamo riuscendo ad avere grazie che abbiamo noi qui nei monitor di servizi, abbiamo una immagine così tardiva. poi parliamo, adesso, eh, si può parlare anche di due corridori, Miguel Lange Lopez e Richard Carpez, eh, Miguel Lange Lopez del team Mastana, Richard Carpez del team, eh, del, team, model, del, eh, team, Movistar, praticamente, eccoli qui, eh, è una tappa, interessante, tappa interessante per loro, Miguel Lange Lopez, che è colombiano, praticamente, è a formazione della, a formazione di Kazaka col team, eh, col team Asana, praticamente, ha chiuso scorciando il terzo posto della, eh, Uel, Uelta, praticamente, una, la, il team Asana, vuole prendersi sempre il giro di tagli, il team, il team Asana, praticamente, poi, eh, c'è, eh, anche un, il, il, Riccardo Carrepez del, team, movi, del team Movistar, praticamente, mi voglio, che lui potrà anche, aiutare a, a Miguel, eh, Landa, di Miguel Landa, praticamente, allora, vedremo, più o meno, cosa riusciranno a fare. Dicevamo, lui, lui, Carrepez, aiuterà il, Miguel Landa, eh, per favorire la, la Corsa Rosa, terzo posto al, al 2015, Carreto, c'è un buon, a monizio, stagione, Richard Carrepez, non vedremo poi, cos'era, intanto, Miguel, Andel, Miguel, Andel Lopez, eh, lo, diciamo anche, eh, lui, di, eh, di Miguel, Angel, Lopez, praticamente, un, Miguel, Angel, Lopez, praticamente, con il team Mastana, è uno che può dare, praticamente, eh, tappe, avverine, da, cose davvero importanti, per questo giro. Eh, da Amanti, sanno, nel, un pochino, eh, superando le parti del, stanno su strade provinciale, quindi strade bloccate, eh, strade sono bloccatissime, per, per questo. Nel, nel frattempo, bisogna anche capire, che cosa, eh, potrebbero, dare, tutti, tutti quanti, eh, corridori, tutti quanti ciclisti. Eh, mh, vedremo. e, eh, allora, eh, si vedrà, eh, di più. Nel, frattempo, eh, cosa, potrebbe, succedere? Vedremo. Adesso, tutti, vorranno, andare, andare davanti. Intanto, vi riporto, vi riportarmi, Lang Lopez, che lui, eh, due, due terzi, allora, il terzo posto scorso anno, alla Giro, e, eh, alla, eh, Vuelta, praticamente, a Giro e alla, alla Vuelta, praticamente, vedremo poi, eh, eh, che cosa, eh, faranno, o, proprio, eh, corridori in concomitanza, tutto questo. E, una tappa. Intanto, dovrà fare, eh, dovrà sempre limitare i danni, perché, eh, lui, fra le Alpe e Vomidi, potrebbe, potrebbero molto esaltare, dovrebbero dargli, delle difficoltà immense, eh, per, quanto, eh, ci, eh, riguarda, praticamente. E, allora, eh, ci possono anche, eh, eh, favoritissimi, praticamente, per, eh, o, giro, o, d'Italia. Allora, andiamo, avanti, e, praticamente, al gruppo, siamo interamente, dedicazione, gruppo, un gruppo, che tiene una media, in, una media, in, importante, praticamente, il, 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 gruppo, bisogna, capire, che cosa, potranno fare, tutti, questi, corridori, siamo, soltanto, alla, quarta, tappa, di, di, questo, giro, e, mancano, soli, 54, chilometri, al, arrivo, dobbiamo, insomma, vedere, perlomeno, che cosa, succederà, nel frattempo, adesso, 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 si capirà, in fondo, chi andrà avanti, siamo, con, i tre, il gruppettino, davanti, vediamo, il gruppettino, davanti, come mai, io lo voglio, dire, ribadire, praticamente, perché, le immagini, serie, della moto, sono sempre indietro, rispetto a quelle, del, quelle che, vengono, date, interessantissimo, e allora, bisogna, capirle di più, adesso, vediamo, adesso, che potranno, eh, fare, intanto, eh, vediamo, un, un giro, molto, bello, per il, eh, momenten, momento, ah, siamo a, monterotondo, vediamo, allora, eh, mon, te, eh, ro, mon, te, eh, rotondo, monterotondo, e allora, il, eh, monte, eh, rotondo, vediamo, vediamo, monterotondo, monte, eh, rotondo, è uno dei comuni, eh, molto importanti, monte rotondo, vediamo, le, mon, cose di, monte rotondo, e allora, eh, vediamo, il, un comune, un comune di, monte rotondo, allora, una storia, particolarmente, in, interessante, monte rotondo, eh, origine, ed età romana, allora, la città, secondo alcune, correnti, arti, eh, arti, antichisti, che, eh, sviluppate, soprattutto, nei secoli passati, ma, di cui, eh, una certa, un certo ego, si ascolta ancora oggi, avrebbe raccolto, le età d'antica, città di Sabine, di Etrum, situata, poco più a nord, e lungo, del fiume del Tevere, la cui storia, risale, tanto indietro, a quella, di Roma, della stessa Roma, di Etrum, non resta, però, alcuna identità, di Etrum, di Rovine, di, eh, storici, antichi, da, eh, Strabone, a, a, Plinio, a Tito Livio, o, con, concordano, al, nell'in, di Carne, il sito, al, diciottesimo, al, 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 eh, diciottesimo, secolo, meglio, della via Salare, dove l'antico tracciato, del, con, della, eh, consolare, si, incrociava, con quella, via Nomentana, città, nell'enile, di Virgilio, tra le città latine, che presero, le, le armi, contro, eretum, ricordata, dagli storici antichi, soprattutto, come teatro, delle, eh, delle lotte, tra romani, e sabini, in età monarchica, battaglie, eh, presso eretum, si combatterono, secondo lo storico Dionisio, sotto i regni di Tullio, Ostiglio, e di Tarquinio, Superbo, e poi ancora, nella prima età, repubblicana, Tito Livio, racconta le sospensioni, contro Roma, vi passo, anche a Nibale, ma certo, che dopo la, la, la sottomissione, la, Sabina, a Roma, 290, avan, 290, avan, 290, avanti Cristo, 290, avanti Cristo, importanza, della città, andò, scemandosi, poi, se vuol dire, di più, la città, di Montero Tondo, e le città, decorate, al valore militare, per la guerra liberazione, in, 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 signita, il, eh, 19 giugno, 1978, dalle, della medaglia d'argento, al valore militare, per i sacrifici, delle sue popolazioni, e per l'attività, nella lotta a partigianare, durante la seconda guerra mondiale, medaglia d'argento, al valore civile, 19 giugno, 1979, praticamente, una cosa molto importante, eh, chiesa, della Madonna delle Grazie, a Montero Tondo, la chiesa, della Madonna delle Grazie, e c'è nella piazza, omonima, del quartiere Santa Maria, tra, quelle esistenti, a Montero Tondo, e di certo, la più antica, anche se non sia, l'anno di, l'anno preciso, edificazione, dovrà passare, eh, molto tempo, però, prima, che, eh, su, commissione, eh, di Giacomo Orsini, gli, eh, si, eh, annettesse, eh, nel 1448, il vicino monastero, abbattuto, poi nel 1932, per far posto, alla sede di Montero, Tonde, Montero Tondese, dell'Omni, la chiesa, eh, presenta, un impianto, mh, ad unica navata, coperta, a volta, con quattro cappelle, su ogni lato, comunicato tra loro, e ben, eh, decorate. Sull'arco romanico, nel, nell'ultima cappella, a sinistra, c'è uno stemma, di Orsini, che per la prima volta, sembra, sostituisce, alla stella, a sei punte, la, la pinnota, rosa canina. La chiesa conserva, alcune tele, di buona fattura, tra le quali, eh, spiccano, una sagrada famiglia, del Savonazzi, una pala, dal, tare, di gusto caravaggesco, e dipinto, di una, madonna, con bambino, al quale, si attribuisce, la stessa, età della chiesa. La facciata, è Silomario, ma con successivi, rimaneggiamenti. In essa, si conservano, una, dei più, interessanti, monumenti, funebi, del 400 Laziale. In un, eh, edicola, appa, a, parete, sopra, un sarcofago, è collocato, il rilievo, equestre, di Giordano, Orrassini. Nella lunetta, che sovrasta, il monumento, si può, ammirare una madonna, con bambino, ed, eh, ed, ed, Angeli, Oranti, che ricordano, vagamente, le opere, del Verrocchio. Nei primi anni, dopo il 2000, la chiesa è stata, ristaurata, per danni, dovuti all'ultimo, grande terremoto, dell'Umbria. Eccola, la, abbiamo parlato, un po', del, di Monte, di Monte, rotondo, dove, 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 sono, passati, praticamente, in, in, precede, dove sono, eh, passati, precedenza, praticamente, a Monte, eh, rotondo. frascati, andiamo, ancora, veniamo davanti, i due, corridori, praticamente, siamo il, gruppo, i corridori, hanno già preso, l'inizio, della salita, i corridori, eh, corridori, praticamente, e allora, bisogna anche, capire, che cosa, la società, nel frattempo, sedici, venentisei, eh, minuti, mancano, 99 chilometri, al, traguardo, 5.54, dai, battistrada, davanti, praticamente, allora, c'è anche, di più, intanto, ci sono, tante, eh, cose, che, eh, nel frattempo, c'è, l'arrivo, del, eh, giro, d'Italia, potrà, anche, dare qualcosa, interessante, 6.25, cima, si impone, tra i, eh, due, ali, di folla, al traguardo volante, metana, davanti, a, eh, frappone a maestri, vi ricordo, il traguardo volante, che hanno appena, passato, il traguardino, vola, l'ultimo traguardo, eh, volante di, eh, mentana, lo hanno, eh, lo hanno, lo hanno, lo hanno, sorpassato, il traguardo volante, di, mentana, lo hanno, sorpassato, il traguardo volante, mentana, allora, è, intanto, intanto, si sta, vedendo, una, una, una corsa, diversa, da, quella che, si vede, si vede sempre, perché oggi, sono questi tre italiani davanti, che fanno, l'andatura, dispiace, perché, se vengono raggiunti, verso il finale, è bruttissimo, eh, bruttissimo, bisogna, capire, poi, eh, che cosa, eh, potrebbe, eh, succedere, nel, eh, frattempo, nel, eh, frattempo, vedremo, e allora, vediamo, e allora, si vede ancora, eh, di più, e allora, tirano, tirano, molle, tirano anche, molle, tissimo, eh, tirano moltissimi corridori, eh, proprio, in questo caso, nel, fra, eh, gentilissimi, radio, ascoltatori, si vede, una, eh, un bellissimo, eh, giro 2007, si, arrivò a Frascati, dove Alessandro Petacchi, eh, vinse, eh, proprio la, volata, eh, dell'ultimo giro, Alessandro Petacchi, e allora, allora, vediamo cosa ci può dare, cosa ci può dare, di buoni, eh, esempi in, eh, qualche parte, adesso, abbiamo anche rivisto, mh, la, vittoria di Pancani, al nostro giro, eh, al, eh, giro, di Italia, andiamo, allora, eh, vediamo, che cosa, succede, è un qualcosa di interessantissimo, vediamo, adesso, dobbiamo anche, capire, che cosa, può andare a succedere, nel, frattempo, si vedrà, una, eh, sono tappe davvero, importanti, tappe quelle, emozionantissime, per il, eh, momento, vediamo, allora, si, vedrà, ancora, una, una grande tappa, di quelli importanti, si, andrà, a, eh, a capire, sempre, che cosa, eh, potrebbe, anche, succedere, praticamente, e, eh, allora, eh, noi siamo, eh, noi siamo, davanti, davanti a seguire questo, grande, eh, giro, o, il, giro davanti, adesso, in questa, volata, in questa, volatissima, vediamo, e, allora, vediamo, ancora di più, vedremo adesso, vediamo, adesso, più che mai, cosa, eh, succederà, più che mai, si, ci basiamo, anche, su una, base, molto, importante, vedremo, tante, eh, velocità, di questo, giro, app, tutto, appartengono a questo, giro, è un, giro, molto, bellissimo, per, eh, quanto, ci riguarda, bisogna, vedere, soltanto, in, in, questo, eh, momento, che cosa succederà, adesso, perché, e allora, ci sarà sempre di più, adesso, e allora, si farà di più, per il, il, il proseguo del, eh, giro, si farà molto, molto più, per il proseguo di questo, eh, giro, di tale, che è un giro, molto bello, adesso, mancano, quarant, tre, eh, chilometri, al, i quarantatré, eh, chilometri, al, traguardo, praticamente, non ho una tre chilometri, di puro godimento, il, sono andati, i, intanto, cioè, li hanno ripresi, eh, tre, eh, i tre corridori, sono ancora, vediamo, vediamo ancora davanti, i corridori, no, li hanno ripresi, eh, li hanno, proprio, eh, ripresi, praticamente, li hanno, o, soltanto, o, ripresi, eh, ripresi, praticamente, proprio, in, eh, in questa, parte di giro, 42, chilometri e 900, i metri, al, traguardo, in, traguardo, in, eh, tere, sante, praticamente, praticamente, vediamo adesso, o, come andranno, i lavori, del, percorso, del, del, giro, d'Italia, praticamente, si vede, un, che è un, un giro, spaziale, quello, eh, che segue, oggi, seguiamo, un, un giro, veramente, in, veramente, alla grande, veramente, di, 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 interesse, eh, bello, mh, allora, eh, siamo, o, sempre, eh, a, pochi, a molti, chilometri, a pochi chilometri, eh, dal, traguardo, praticamente, eh, vediamo, mh, come andranno, eh, cose, proprio, o qui, e proprio, oggi, mancano, praticamente, 42, chilometri, eh, 41, chilometri, 400 metri, al, traguardo, vediamo, ah, no, 3.057, non li hanno ripresi, sembrava, dal, precedente, monitor, che l'avessero, proprio, eh, ripresi, praticamente, nel, frattem, nel, frattempo, allora, eh, notizie che arrivano dagli internazionali d'Italia, notizie che ci arrivano e ci giungono dagli internazionali d'Italia, che praticamente, Barbie, eh, Berrettini, batte, anche, eh, Roman, batte anche Zerev, eh, quindi, eh, è un, da sogno a partire dalle quali, eh, ficazioni, Berrettini. Adesso, le moto, le, vediamo, le ammiraglie, in, vediamo le, mh, vediamo, le ammiraglie, in, indietro, le, riusciamo a, 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 a vedere, le due, ammiraglie, bisogna vedere chi è che abbia, chi è che sembra, no, davanti, tre minuti e cinquantanove, eh, tre minuti e cinquantanove, praticamente, bisogna anche, eh, capire cosa e come faranno, eh, cosa faranno i corridori. Nel frattempo, quanto, quando manca, non solo 40 minuti, e 900 metri, al, eh, traguardo, o un traguardo interessante, 40, eh, 40, eh, metri e settecento metri. Allora, adesso noi, eh, per, di consoduire, non, noi non facciamo mai, noi non facciamo mai una pausa, quindi, eh, rimaniamo in sintonia, in, sintonia con il, il giro, eh, di Italia, è un giro, d'Italia, spaventoso, d'Italia, pauroso, quello, che ne, può, con, che può concedere, in queste, eh, settimane, eh, praticamente. Allora, è una, un, un, un trittico importante, in un trittico molto, molto, in, eh, importante. Quello che vediamo, se hanno passato i 40 chilometri, eh, 40 chilometri, andiamo a Guidonia, praticamente, superano Guidonia, ai, eh, corridori, vedremo, mh, adesso come, eh, andranno, eh, proprio, come andranno, proprio, eh, le, le cose, gentilissimi, eh, gentilissimi, radio, ascoltatori, bisogna capire, eh, eh, di queste due, eh, di queste compagini, riesca a, eh, a fare, eh, e andare al, eh, 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 queste le, eh, compagini, eh, che vanno, eh, eh, di più di qui in, eh, eh, giro, d'Italia, il giro, molto, eh, importante, questo, è il, eh, giro, eh, centoduesimo, oh, giro, oh, d'Italia, il giro, centoduesimo, che vede da, tra le altre, eh, cose, eh, sempre andare in, eh, un, andare in vantaggio per, tante novità e tante notizie. Adesso siamo in, mh, in, carena per il, eh, giro, o, di, eh, per il giro d'Italia, un giro clamoroso. Adesso che noi lo, o, vogliamo, o, seguire, eh, così questo, eh, giro, eh, dobbiamo, anche, eh, addirittura, eh, capire come può andare. Nel frattempo, 38 km, 500 metri al, traguardo, 3 minuti e 46, dai, eh, leader, lì davanti, eh, c'è da capire, chi potrà fare, l'an, eh, le mega, eh, andature, le mega, mh, andature per, eh, arrivare alla fine, intanto, c'è qualcuno, le borracette, era un, corridore, quara, no, non era, non è, sembra il 45, la baremerita, sembra lui, il 45, la baremerita, Andrea, Garioso, eh, Andrea, Garosio, ma non, ne siamo sconvinti, perché era coperto, nella moto, era copertissimo, il numero, 37 chilometri, e, 7, 100 metri, al, traguardo, è una, una corsa, che va, per la, maggiore, praticamente, si sta vedendo, tutte le moto, che vanno, che seguono, il giro davanti, eh, vediamo, ma, la, mancano, è un distacco, davvero, un netto, netto, netto distacco, eh, in, precedenza, questo, netto distacco, si potrà anche capire, si potrà anche, vedere, per il, eh, momento, vediamo, poi, eh, che cosa, eh, può, succedere, eh, in questo, caso, praticamente, vedremo, poi, che cosa, eh, succederà, fino al traguardo, io, mi penso, un traguardo, molto importante, eh, si dovrà, far rifare, Elia Aviani, questa volta, deve vincere, per forza, questa gara, Elia, Viviani, perché non può, eh, sbagliare, non può, proprio, sbagliare, Elia Viviani, eh, non, non può, proprio, sbagliare, eh, Elia, eh, Viviani, perché, eh, se, eh, sbaglia, sbaglierà, farà sbagliare, tutto quanto, eh, nel, frattempo, Elia, eh, Viviani, è molto indietro nel gruppo, vediamo adesso, c'è anche, eh, a Frascati, c'è anche, hanno inquadrato, c'è anche Terence Hill a Frascati, sembrava lui, Terence Hill, eh, Terence Hill, eh, a, a, a Frascati, praticamente, Terence, Hill, eccolo, l'abbiamo visto, a, 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 a Frascati, eh, praticamente, vedremo poi, come andranno, le cose, praticamente, è un, una, adesso, tappa, che vediamo, c'è un, la Nippo Fantini, diamo, le, tutte, del, del, caso, praticamente, eh, Giovanni, Lonardi, eh, il, 145, da Nippo, Fan, Tini, praticamente, può, eh, eh, An, San, il gruppone, belle le immagini, c'erano, dalle, telecamere, in, importanti, di, eh, servizio, queste sono le, le camere di servizio, più belle, e più interessanti, nel momento, è una, un successo, un successo, veramente, importanti, facciamo, senti, adesso, facciamo, eh, sentire, abbiamo, eccolo, Fernando, o, Ga, ecco, facciamo, sentire, Fernando Gaviria, e poi, ritorniamo, in diretta, per, eh, il, giro, cento, due, ecco, a B, turno, no, e poi, mi ha visto, ho, Grazie a tutti 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 E sono Grazie a tutti 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 Corridori In questo Grazie a tutti 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 Il nostro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Perché Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti